Buongiorno a tutti, allora seconda lezione di didattica a distanza, avrei pensato di concludere in realtà il discorso sull'ulissismo. Vi ricorderete che abbiamo parlato un po' di questo aspetto, la fortuna dell'ulissi dantesco nella letteratura successiva. Ci siamo soffermati su questo anche perché, come vi dicevo in classe, sostanzialmente l'inferno di Dante l'abbiamo quasi terminato. Avrei intenzione di leggere in classe ancora solo un paio di canti, il 33 e il 34. Quindi è vero che questa interruzione a causa del coronavirus non era prevista, però avrei comunque pensato, usufruendo di questo mezzo a distanza, le video lezioni su YouTube, di concludere in questo modo il discorso sull'ulissismo leggendo quindi un'altra celebre pagina della letteratura novecentesca in cui è protagonista questo Ulisse di Dante. Noi abbiamo visto in classe, abbiamo letto, vi ricorderete, l'ultimo viaggio di Giovanni Pascoli, 1904, un poemetto tratto dalla raccolta dei poemi conviviali e in cui avevamo visto, no, l'Ulisse Pascoliano è un eroe proiettato sul passato anziché sul futuro, in questo senso un eroe pienamente decadente, nel senso che forse avevamo detto, vabbè, Pascoli vive la stagione culturale del decadentismo tra otto e novecento, una stagione culturale segnata, tra le altre cose, da una scienza che pervade ogni campo, sia nell'epoca del positivismo, e quindi abbiamo visto come questo fenomeno avesse poi un suo riscontro nell'invenzione pascoliana, di questo Ulisse che va alla ricerca dei luoghi che aveva visitato da giovane, quindi lo spunto era lo stesso di Dante, cioè Ulisse è anziano, però è a Itaca, non è appunto sull'isola di Circe, è tornato a Itaca, ha sconfitto i proci, ma dopo dieci anni di inazione, di indolenza, stufo, decide di rimettersi in viaggio con i compagni che già lo stavano aspettando, in realtà i compagni incantiti come lui lo stavano aspettando al porto di Itaca. E Ulisse parte, ecco dicevamo, non è un eroe l'Ulisse pascoliano proiettato sul futuro, cioè non vuole andare a scoprire nulla di nuovo, perché? Perché Pascoli vive in un'epoca in cui si è convinti che ormai la scienza ha scoperto tutto e non c'è più nulla da scoprire, allora è un eroe che prova a ripiegarsi sul passato, no? Cercando di recuperare una memoria, che stava svanendo, cerca di ripercorrere i suoi viaggi giovanili. Ma, ecco dicevamo, no, poi in questi suoi viaggi Ulisse aveva scoperto che tutto quello che credeva di aver visto in realtà non c'era, la Maga Circe non c'era, probabilmente non era mai esistita, era solo frutto della sua fantasia. Il gigante Polifemo non era un gigante, era semplicemente un vulcano, quindi un monte molto alto, con un occhio di fuoco al centro e ogni tanto dei lapilli, dei detriti che venivano scagliati da questa montagna verso l'alto. A dire, insomma, che nella realtà di fine ottocento, appunto nella realtà positivista, non c'è nulla di straordinario, perché tutto viene scoperto, tutto viene spiegato dalla scienza, e che la giovinezza è un bellissimo sogno, ma quando appunto lo si cerca di recuperare della vecchiaia appunto ci si accorge che la giovinezza era soltanto un sogno, non era la realtà. E questo quindi per quanto riguarda il testo appunto pascoliano che avevamo però letto in classe, che avevo distribuito su fotocopia. Oggi l'altra pagina novecentesca che vorrei leggere fu scritta da Primo Levi, nella famosissima reportage Sequest un uomo, pubblicato nel 1947. Forse anche questo, tra l'altro, mi dicevate, insomma, avete citato quest'opera l'anno scorso, comunque nel bienio. Ecco, questo pdf lo troverete sul registro, perché ovviamente Primo Levi non ce l'avete sul testo di letteratura, ovviamente, perché si fa in quinta, no? Si fa l'ultimo anno. Però ecco, propongo questa lettura sempre perché, ecco, quindi anche Primo Levi, diciamo, ha preso spunto dall'Ulisse Dantesco per scrivere una sua famosa pagina all'interno di Sequest un uomo, che lo saprete già, però lo ripetiamo, quindi diciamo che è un reportage, cioè è un, diciamo, un testo documentario, tecnicamente si parla di letteratura memorialistica, cioè in cui c'è una persona che ha vissuto davvero l'esperienza e la riporta, memorialistica concentrazionaria. Perché? Perché, appunto, Primo Levi riporta la tragica esperienza avvenuta nel campo di concentramento, in realtà in due campi, quello di Bulamonovic presso Auschwitz e prima ancora, però, un breve soggiorno nel campo italiano di Fossoli, la Modena. È un diario, un reportage, che ha quindi una precisa cronologia, si va dal dicembre del 43 al gennaio del 45 e l'intento di Primo Levi è ovviamente quello di scrivere, in questo suo diario di ricordi, quella che fu la non vita, di non uomini, cioè, appunto, gli ebrei deportati, che tentarono disperatamente in quei due anni di sopravvivere alla fame, al freddo, al duro lavoro. Tra l'altro, forse, appunto, ripeto, l'avete detto già al bienio, Primo Levi ovviamente riuscì a sopravvivere alla tragedia della Shoah, grazie al fatto che conosceva il tedesco e soprattutto grazie alle sue competenze di chimico. Praticamente Primo Levi riuscì a diventare all'interno di Auschwitz una specie di operaio specializzato, venne visto con un occhio di riguardo per le sue conoscenze, lui era laureato in chimica, no? E fu così che di fatto si salvò, ed è per questo che poi si sarebbe sentito in colpa per tutta la vita, cioè per il fatto di essere sopravvissuto, a differenza di tanti altri che invece erano morti tragicamente in quel campo. I suoi sensi di colpa non lo abbandoneranno mai, Primo Levi morirà a suicida nel 1987 ed era nato nel 19. Se questo un uomo è un, quindi diciamo, un reportage, letteratura memorialistica, 17 capitoli, è di suddiviso. Ovviamente ciascuno è dedicato ai diversi momenti di questa terribile vicenda vissuta in prima persona dall'autore, che racconta questa esperienza drammatica ovviamente in prima persona. Quindi un libro di memoria, un libro documento, un reportage, abbiamo anche detto, con una scrittura anche molto chiara, molto limpida, argomentativa, con cui Primo Levi vuole dimostrare al lettore la veridicità delle sue affermazioni e in questo comunque si sente molto la formazione scientifica di Primo Levi. La teoria dell'autore ovviamente è che i nazisti con questi campi di concentramento volevano in qualche modo rendere l'uomo, l'uomo deportato, una bestia, annientare la dignità dei deportati, privando i deportati delle proprie facoltà razionali. Cioè l'idea che Primo Levi vuole comunicare è che appunto il lager, l'esperienza del lager, era stata pianificata appositamente proprio per, diciamo, ridurre l'uomo deportato a bestia, ad animale. E allora, ecco, questa è la tesi di fondo di tutto questo libro che è sequestro un uomo. E allora in questa tesi si innesta proprio la pagina che vorrei leggere dedicata all'Ulisse Dantesco. Perché? Siamo nel capitolo undicesimo, quindi questo PDF appunto lo troverete sul registro elettronico, poi lo proietto anche qui in questa video lezione, ma potrete poi andare a recuperarlo, stamparlo, poi nel caso ci vedessimo già settimana prossima posso fornirvi anch'io una stampa che è più comodo. Comunque, diciamo che, ecco, siamo nel capitolo undicesimo, quindi siamo proprio nel cuore della narrazione, nel cuore anche cronologico di questa esperienza terribile della deportazione. Perché è ancora lontana, è la prospettiva di una liberazione. Levi, però già qui, ecco siamo nel capitolo undicesimo, quindi è già entrato a far parte di una squadra di specialisti chimici, il Commando. Con altri sei compagni sta pulendo l'interno di una cisterna, questo in particolo modo il lavoro che era chiamato a fare, quando Jeanne, un membro di questa squadra di specialisti, lo chiama per andare a ritirare il rancio del giorno. E quindi, diciamo, è il momento della pausa pranzo. Per la pausa pranzo, nel campo di concentramento ovviamente non era previsto un servizio sul posto, ma bisognava interrompere il lavoro e andare a recarsi diciamo alla mensa, no? Quindi Primo Levi interrompe il lavoro, decide di accompagnare questo Jeanne, sopronominato il piccolo, perché era il più giovane della squadra, e decide di accompagnarlo. Era anche una bella giornata, così la descrive, si potrà respirare un po' di aria fresca, no? Dopo ore di lavoro a pulire una lurida cisterna. Durante il tragitto, dal posto di lavoro, diciamo, alla mensa dell'arancio, ecco che a Levi tornano in mente alcuni versi danteschi. Lo spunto narrativo, in particolar modo, è che Levi voleva, diciamo, insegnare l'italiano a Jeanne, francese, e che voleva, diciamo, imparare l'italiano. Quindi Primo Levi, si dice disponibile, anche se, chiaramente, no? Per pochi minuti, probabilmente provare a fare una lezione d'italiano a questo suo compagno, e sceglie, per spiegare l'italiano al suo compagno, sceglie proprio il canto di Ulisse, il ventisesimo canto dell'inferno di Dante. È chiaro che non è una scelta casuale, cioè è chiaro che questo episodio è stato messo appositamente da Primo Levi all'interno di questo suo libro documentario, che è Sequest un uomo. Infatti abbiamo detto, no? Di quella che è la tesi di Primo Levi, cioè la vita del Lager è una vita subumana, è una vita degradata, e allora l'aggrapparsi al ricordo letterario esprime il tentativo di salvare qualche cosa di umano. Non è un caso, appunto, che siamo in una delle rare pause nella vita infernale dell'Agra, cioè un momento, diciamo, di spostamento in cui bisogna spostarsi da un luogo all'altro per andare, appunto, a recuperare il rancio. Tra l'altro, appunto, Primo Levi descrive che la giornata era serena, era una bella giornata, aria fresca, non troppo fredda però. Quindi siamo in una pausa in questa vita infernale dell'Agra. Primo Levi tenta di insegnare l'italiano a un compagno attraverso il canto di Ulisse, che ovviamente viene ricordato dall'autore solo per frammenti, solo confusamente, perché, insomma, Primo Levi aveva appunto studiato, poi lui si era anche laureato in chimica nel 41. Però, quindi, era un'epoca in cui a scuola spesso, sì, certo, si ordinava agli alunni di imparare a memoria, no? Certi passi famosissimi della nostra letteratura. Però, passati tanti anni, dagli studi liceali, insomma, un po' se l'era chiaramente dimenticato. Però la cosa ecco interessante, che è il motivo per cui poi leggiamo questa pagina, è questa, cioè la letteratura come ciò che può salvare l'umano dal subumano. E l'episodio di Ulisse, in particolar modo, è illuminante da questo punto di vista. Soprattutto nel passo, ovviamente, che noi abbiamo letto a Dantesco, in cui Ulisse sprona i suoi compagni dicendo, fatti non foste a vivere come brutti, ma per seguire virtù e conoscenza. Che, ovviamente, è un verso che Levi ricordava e quindi riporterà in questa pagina. Vedremo, ecco, come si raccorda, ecco, questa citazione dantesca con l'episodio che qui sta narrando Primo Levi all'interno del Lager. Quindi, il canto di Ulisse, chissà come, perché mi è venuto in mente, ma non abbiamo tempo di scegliere. Quest'ora già non è più un'ora. Ecco, e subito, Primo Levi mette in evidenza, appunto, che è una pausa, dicevamo, una delle rare pause nella vita infernale del Lager, ma è una pausa breve. Il tempo in queste pause scorre rapidissimamente. Poi bisognerà tornare alla vita disumana che pervade, invece, che è pervasiva, nell'esperienza concentrazionaria, l'esperienza del lavoro durissimo, del freddo. Se Gian è intelligente, capirà. Capirà. Oggi mi sento da tanto. Chi è Dante? Che cosa è la commedia? Quale sensazione curiosa di novità si prova se si cerca di spiegare in breve che cosa è la divina commedia? Come è distribuito l'inferno? Cosa è il contrapasso? Virgile ha la ragione, Beatrice ha la teologia. Gian è attentissimo e Dio comincio lento e accurato. Lo maggior coro della fiamma antica cominciò a crollarsi mormorando, pur come quella a cui vento a fatica. Indi la cima in qua in là menando, come fosse la lingua che parlasse, mise fuori la voce e disse quando. Quindi, ecco, Primo Levi insegna a Gian, diciamo l'italiano, ma anche ecco da ante la divina commedia, citando proprio alla lettera alcuni versi che non sono, vi ricorderete, l'inizio del canto 26, ma è il momento in cui Ulisse inizia a parlare, Ulisse nascosto dalla fiamma. Qui mi fermo e cerco di tradurre, disastroso, povero Dante, povero francese. Ecco, il compito di Primo Levi era quello, ovviamente, visto che doveva comunque insegnare l'italiano a un francese e poi di tradurre questi versi in francese. Tuttavia l'esperienza pare prometta bene, Gian ammira la bizzarra similitudine della lingua e mi suggerisce il termine appropriato per rendere antica. E dopo quando? Il nulla. Un buco nella memoria. Ecco, dicevamo, no? Il canto di Ulisse viene ricordato da Levi, ma solo confusamente, per frammenti, perché non c'è sotto un libro, ovviamente. Però basta la memoria, ecco. Il ricordo letterario, ripeto, esprime proprio questo disperato tentativo di aggrapparsi a qualcosa di umano, in questo universo concentrazionario del lager che mira all'annientamento dell'umano e della dignità umana. Prima che Sienea la nominasse, altro buco, viene a galla qualche frammento non utilizzabile, la pieta del vecchio padre, né il debito amore che doveva Penelope far lieta, sarà poi esatto? Ma misi me per l'alto mare aperto. Di questo sì, di questo sono sicuro. Ecco, notiamo anche, per quanto riguarda la scelta tipografica, che i versi, ecco, di cui Primo Levi si ricordava con esattezza la scansione, proprio le parole, vedete, vengono riportati al centro, anche con un carattere leggermente diverso. E dice, di questo sì, di questo sono sicuro, di questo verso. Sono in grado di spiegare a Piccolo, di distinguere perché misi me non è gememi. È molto più forte, più udace, è un vincolo infranto. E scagliare se stessi al di là di una barriera, noi conosciamo bene questo impulso. Ecco, cosa vorrà dire questo? Beh, il fatto che ovviamente i deportati sognavano di poter andare al di là della barriera del campo, sognavano la libertà. Ecco perché dice, noi conosciamo bene questo impulso, noi desidereremmo più di ogni altra cosa lasciare questo inferno, scappare e andare al di là della barriera del filo spinato, ma non è possibile. L'alto mare aperto, Piccolo ha viaggiato per mare, sa cosa vuol dire. È quando l'orizzonte si chiude su se stesso, libero, diritto e semplice, e non c'è ormai che odore di mare, dolci cose ferocemente lontane. E qui viene ribadito, ecco, il desiderio impossibile di vedere il mare, quindi di andare al di là dei limiti del campo di concentramento, che è un'orribile prigione. Siamo arrivati alla Kraftwerk, ecco che troverete anche in nota la centrale elettrica, dove lavora il commando di posacavi. Ci deve essere l'ingegnere Levi, eccolo. Si vede solo la testa fuori della trincea, mi fa un cenno con la mano, è un uomo in gamba, non l'ho mai visto giù di morale, non parla mai di mangiare. Mare aperto, mare aperto, so che rima con diserto. Al cambio di capoverso è ancora Levi, no, che sta cercando di recuperare dalla sua memoria i versi danteschi. Quella compagna piccola dalla quale non fui diserto, ma non ramento più se viene prima o dopo. E anche il viaggio, il temerario viaggio al di là delle colonne d'Ercole. Che tristezza, sono costretto a raccontarlo in prosa, un sacrilegio. Non ho salvato che un verso, ma vale la pena di fermarcisi. A ciò che l'uomo più oltre non si metta. Si metta. E vedete che anche questo verso è ricordato con precisione da Levi, e per questo è posto al centro, e con uno stacco anche tipografico. Dovevo venire in lager per accorgermi che è la stessa espressione di prima. E misi me. Ma non ne faccio parte a Jeanne, non sono sicuro che sia un'osservazione importante. Quante altre cose ci sarebbero da dire? E il sole è già alto, mezzogiorno è vicino. Ancora l'ossessione del tempo che passa e che metterà fine a questa rara pausa di spensieratezza all'interno della vita infernale del lager. Ho fretta, una fretta furibonda. Ecco, attento piccolo, apri gli orecchi e la mente, ho bisogno che tu capisca. Considerate la vostra semenza, fatti non foste vivere come bruti, ma per seguire virtute e conoscenza. Come se anch'io lo sentissi per la prima volta, come uno squillo di tromba, come la voce di Dio. Per un momento ho dimenticato chi sono e dove sono. Questa è la citazione chiave all'interno di questo episodio di Sequestro un Uomo. Tra l'altro è una citazione vissuta da Levi come un'illuminazione, perché dice come se anch'io lo sentissi per la prima volta. Cioè Levi si accorse in quel momento lì che il messaggio di Ulisse riguardava tutti gli uomini in travaglio. Specie chi, come i prigionieri, è costretto, appunto i prigionieri del lager, è costretto a una condizione subumana di sofferenza, fatica, umiliazione, abrutimento, nel senso letterale, di uomini che erano diventati come delle bestie, spersonalizzati, fra l'altro, disumanizzati. Quindi è come se il lager, appunto, che mirasse ad annientare la parte spirituale di ogni individuo. Ma questa parte spirituale dell'essere umano ecco che riaffiora grazie ai versi danteschi e almeno per questa parentesi breve di tempo finisce per avere la meglio sulla riduzione dell'uomo ad animale o cosa. E questo tentativo di Primo Levi, no, di recuperare dalla memoria questi frammenti dei versi dell'episodio di Ulisse, diviene a sua volta una forma di eroica resistenza all'annientamento della dignità umana. Possiamo dire che la letteratura, ecco, sia il mezzo attraverso cui questi due prigionieri, Jean e Primo Levi, che vengono tra l'altro da paesi diversi, no, appunto parlano in diverse lingue, la letteratura è il mezzo attraverso cui si scoprono uniti da legami profondi, pronti alla solidarietà e alla comprensione reciproca. Cioè è la letteratura che fa capire a questi due che hanno in comune il fatto di essere esseri umani. Piccolo mi prega di ripetere, come buono Piccolo, si è accorto che mi sta facendo del bene, o forse qualcosa di più. Forse, nonostante la traduzione scialba e il commento pedestre frettoloso ha ricevuto il messaggio, ha sentito che lo riguarda, che riguarda tutti gli uomini in travaglio e non in specie, e che riguarda noi due, che osiamo ragionare di queste cose con le stanghe della zuppa sulle spalle. Ecco, questo dettaglio, la zuppa sulle spalle, le stanghe, è un dettaglio che rimanda alla bestialità, cioè l'essere umano, in quanto animale, ovviamente deve mangiare per sopravvivere. La dimensione intellettuale, la dimensione anche della memoria, è una dimensione invece esclusivamente umana, e la memoria è riuscita a recuperare questi versi celeberrimi di Dante, dell'Ulisse dantesco, e appunto Primo Levi ha capito come una folgorazione, come un'illuminazione, che la ringa di Ulisse non era solo rivolta ai suoi compagni in quel passo dell'inferno, ma era un messaggio per tutti gli uomini in travaglio. Ovviamente poi qui dovremmo precisare che, certo, Primo Levi, da questa sua interpretazione, sappiamo bene, ribadiamolo, che Dante la pensava diversamente, ecco, e quella ringa che mette in bocca a Ulisse, Dante non la condivideva affatto, ecco, quello ricordiamocelo sempre. Li miei compagni feci ossia acuti, e mi sforzo, ma invano, di spiegare quante cose vuol dire questo acuti. Qui ancora una lacuna, questa volta irreparabile. Lo lume era di sotto della luna, o qualcosa di simile, ma prima nessuna idea. Keine Hanung, come si dice qui. Che piccolo mi scusi, ho dimenticato almeno quattro terzine. Ça ne fait rien, vai tout demain. E troverete anche in nota la traduzione, non importa, continua ugualmente in francese. Tra l'altro qui notiamo, forse, ripeto, l'avrete notato anche già l'anno scorso, se avrete letto qualche pagina di Sequestru un uomo, il plurilinguismo è leviano. Per rendere anche il caos del Lager, l'inferno caotico, Primo Levi ricorre appositamente a inserire all'interno della narrazione tante lingue, le tante lingue che in effetti comunque erano parlate all'interno del Lager. Vedremo che addirittura questo episodio si conclude con una citazione in polacco. Qui c'è una frase in tedesco, non una frase, un'espressione, Keine Hanung, e poi questa frase di Piccolo, di Jean, in francese, che viene riportata appositamente in francese, ripeto, per dare l'idea dell'inferno caotico dell'Agra, anche sul piano linguistico, e quindi tecnicamente anche l'incomprensibilità, perché parlare tante lingue diverse porta all'incomprensibilità reciproca. Quando mi apparve una montagna, bruna per la distanza, e parvemi alta tanto che mai veduta non ne avevo alcuna. La memoria recupera adesso, invece, più precisamente, i versi in cui, non lo sappiamo bene, Ulisse vede la montagna del Purgatorio. Sì, sì, alta tanto, non molto alta, proposizione consecutiva. E le montagne, quando si vedono di lontano, le montagne, oh piccolo, piccolo, di qualcosa, parla, non lasciarmi pensare alle mie montagne, che comparivano nel bruno della sera quando tornavo in treno da Milano a Torino. Ed ecco che la letteratura, quindi, abbiamo detto l'importanza che ha in questo passo, fa scoprire, far riscoprire, ecco diciamo così, l'umanità ai due prigionieri, ma è anche ciò che consente all'autore di ritornare con la memoria ai suoi luoghi. Ecco, la montagna bruna per la distanza ricorda l'autore le sue montagne, no? Quelle che comparivano nel bruno della sera quando in treno rientrava da Milano a Torino. Basta, bisogna proseguire. Queste sono cose che si pensano, ma non si dicono. Quindi ancora una volta, tra l'altro, lo slancio è, la letteratura serve anche per andare oltre i limiti. Ecco, i limiti sempre in questo caso sensoriali, lui era, Primo Levi si trovava in realtà completamente diversa da quella della pianura padana, della sua anche giovinezza, ma quei versi lo proiettano, almeno per un momento, nei luoghi a lui così cari. Piccolo attende mi guarda, darei la zuppa di oggi per saper saldare, non ne avevo alcuna col finale. Darei la zuppa di oggi significa ancora una volta, Levi si è accorto che, ricordando questo episodio dell'Ulisse Dantesco, si è accorto che l'umanità, la dignità dell'essere umano non è nel mangiare, non è la dimensione del cibo, che è certo un impulso primario, ma la vera cifra costitutiva dell'essere umano è appunto la volontà di conoscere, di andare oltre i propri limiti conoscitivi. E lui dice, infatti, darei la zuppa di oggi per poter recuperare con la memoria, quindi per poter conoscere, tornare a conoscere quello che Dante aveva scritto nel finale, i versi esattamente che aveva scritto. Mi sforzo di ricostruire per mezzo delle rime, chiudo gli occhi, mi mordo le dita, ma non serve, il resto è silenzio. Mi danzano per il capo altri versi, la terra lagrimosa diede vento. No, è un'altra cosa. È tardi, è tardi, siamo arrivati alla cucina, bisogna concludere. Ecco, il tempo che abbiamo visto subito a Silla Levi già dall'inizio del capitolo, adesso sta veramente per scadere ormai. Il tempo di questa parentesi quasi dilliaca, no? Di questa parentesi letteraria all'interno di una vita che non è assolutamente letteraria, ma che è subumana nella vita dell'agra. Tre volte il fe girare con tutte l'acque, alla quarta levar la poppa in suso e la prora ire in giù, come altrui piacque. Trattengo piccolo, è assolutamente necessario e urgente che ascolti, che comprenda questo come altrui piacque, prima che sia troppo tardi. Domani lui o io possiamo essere morti, o non vederci mai più. Devo dirgli, spiegargli del Medievo, del così umano e necessario eppure inaspettato anacronismo, e altro ancora, qualcosa di gigantesco, che io stesso ho visto ora soltanto, nell'intuizione di un attimo, forse il perché del nostro destino, del nostro essere oggi qui. E come troverete anche in nota, sostanzialmente qui Levi voleva spiegare a Jean l'anacronismo dantesco, che mi sembra avessimo spiegato anche noi in classe leggendo appunto il passo dell'inferno, questo come altrui piacque, perché è l'Ulisse pagano dannato, che con il pronome altrui si riferisce a Dio, a Dio che lo ha punito, che ha punito appunto si diceva che alla fine, appunto, ormai il passo si sta concludendo, e Ulisse in Dante era stato punito per aver infranto le barriere della tradizione. E allo stesso modo, ecco, i prigionieri dell'Agr sono stati puniti perché hanno osato opporsi a una forza soverchiante, no? Come trovate anche in nota. Cioè i deportati, beh, oltre che essere i deportati per ragioni razziali, erano anche coloro che si erano posti all'ordine e al potere nazifascista in Europa in quegli anni. Quindi è un, Levi coglie un destino comune anche tra la figura di Ulisse, come finisce la sua vicenda nel ventisesimo dell'inferno, e il destino dei prigionieri. È per questo che dice no, nell'intuizione di un attimo forse ho capito il perché del nostro destino, del nostro essere oggi qui. Ulisse aveva infranto le barriere della tradizione, aveva scavalcato un confine sacro e per questo era stato punito da Dio. I prigionieri dell'Agr invece si trovano qui, cioè invece allo stesso modo si trovano qui perché hanno provato a infrangere, diciamo, l'ordine nazifascista in Europa vigente in quegli anni. E poi siamo alla conclusione. Siamo ormai nella fila per la zuppa, in mezzo alla folla sordida e sbrindellata dei portazuppa degli altri commandos. I nuovi aggiunti ci si accalcono alle spalle. Kraut und Rüben Kraut und Rüben si annuncia ufficialmente che oggi la zuppa è di cavoli e rape. Schu enave kapocca es repack. In finché il mar fu sopra noi richiuso. E allora questa conclusione cosa ci dice? Anzitutto del plurilinguismo, no? L'abbiamo già detto, ma qui è ancora più evidente. E non è un caso che il plurilinguismo leviano sia messo in evidenza qui, cioè quando si sta distribuendo il rancio. Perché abbiamo detto, no? Che in questo passo è molto evidente la dialettica, la contraposizione tra la dimensione dell'uomo come animale, che fa riferimento anzitutto al cibo, come impulso primario, e la dimensione dell'uomo come essere intellettuale, ecco, che si avvale della memoria, del ricordo, della letteratura per salvare l'umano dal disumano. Quindi è appositamente inserito in questo finale, un evidente plurilinguismo, perché siamo arrivati al momento del rancio. Quindi siamo davanti a una piena reimmersione, no? Nella vita del Lager. I due sono, magari anche malgrado loro, ributtati davanti all'assillo animalesco della fame, ed è per questo appunto che la zuppa di cavoli e rape è annunciata addirittura in tre lingue diverse, prima in tedesco, poi in francese, poi appunto in polacco. E come mai Levi decide di chiudere il capitolo con questo verso? Certo, è ovvio che anche l'ultimo verso che pronuncia Ulisse, nel 26 dell'Inferno, abbiamo ricordato, no? Bellissima l'immagine, no? Di Ulisse, di un Ulisse annegato, perché Ulisse è stato colpito la sua nave da quella specie di tornado, no? Che si era sollevato alla montagna del Purgatorio, la tromba d'aria ha fatto naufragare la nave, e l'ultima cosa che Ulisse vide in vita, prima di piombare all'Inferno, fu il mare, no? Il mare sopra di lui. Lui poi utilizza il noi perché si intendono anche i compagni, ovviamente, Ulisse e i suoi compagni. Ma questo verso viene emesso qui appositamente, certo perché è l'ultimo verso del canto dantesco ed è l'ultimo verso pronunciato da Ulisse, ma che cos'è? È un modo per far capire al lettore che la parentesi letteraria che è servita a Primo Levi appunto per capire che c'è sempre una dimensione umana, una dimensione umana che Lager mira ad annientare. Ecco, questa parentesi è finita. Si sancisce in questo modo la reimmersione nell'inferno concentrazionario. Ecco, così come Ulisse muore annegato, qui Primo Levi e anche Jean, il personaggio che aveva provato a imparare l'italiano sentendo il canto di Ulisse, sono costretti, loro malgrado a reimmergersi, anzi sono travolti, potremmo dire, appunto dall'assilo animalesco della fame e più in generale da questo inferno del Lager che mira appunto all'annientamento dell'umano. Spero di essere stato sufficientemente chiaro, nel caso poi quando ci vedremo, forse in realtà già settimana prossima, oggi venerdì 28, le ultime notizie sono che forse rientreremo a scuola già da lunedì. Comunque in ogni caso, se ci saranno domande, poi ne parleremo in classe su questo testo. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona giornata.